Pronti a partire gli ultimi 180 minuti di gioco che segneranno in parte il destino delle quattro calabresi. Il Cosenza si prepara alla gran finale della stagione regolare prima di tornare in campo per gli spareggi promozione. I Silani andranno a far visita al Messina, formazione che ormai viaggia in piena zona salvezza. Messina, tornata alla vittoria dopo tre risultati non proprio splendidi, è determinato a continuare, in vista soprattutto della penalizzazione in arrivo che non andrebbe ad intaccare comunque la questione salvezza, staccando ulteriormente la regina attualmente a meno a uno. Amaranto che invece saranno impegnati sul campo dell'Andria con lo stesso obiettivo. La regina potrebbe infatti mettere il timbro sulla stagione 2016-2017. I pugliesi, distanti solo una lunghezza dalla zona promozione, vorranno quindi rimettersi in carreggiata e giocarsela fino alla fine. Chi invece lotta per rimanere ancora in corsa a play-out sono Catanzaro e Vibonese. I giallorossi, dopo la debacca del Luigi Razza, proveranno a mettere una toppa su un campionato iniziato male. Il Catanzaro, unica formazione calabrese a giocare in casa, ospiterà la casertana, collocata nella parte opposta della classifica. I rosso-blu invece se la giocheranno sul campo del Taranto, attualmente ultimo e quindi retrocesso. Maria Chiara Sigillò per la CNews24. Maria Chiara Sigillò per la CNews24.